Il Centro di Rieducazione dei Minorenni, creato in seguito alle provvidenziali leggi fasciste sulla delinquenza minorile, è stato inaugurato da Sua Eccellenza Solmi, Ministro di Grazia e Giustizia. Nella disciplina ferrea ma non cieca e nell'abitudine al lavoro, questi giovani ricorderanno il loro triste passato solo come un ammonimento a non deviare mai più dal retto cammino. Grazie a tutti.